Si preannuncia particolarmente interessante l'edizione 2015 di ProWinter, fiera internazionale dedicata al noleggio e ai servizi per gli sport invernali, in programma da giovedì 9 a sabato 11 aprile nei padiglioni della fiera di Bolzano. Appuntamento molto apprezzato non solo dagli operatori del settore ma anche dagli appassionati. Oltre 200 gli espositori che presenteranno tutte le novità del settore, dalle attrezzature agli accessori per gli sport della neve all'abbigliamento tecnico per le scuole di sci e snowboard arrivando fino agli equipaggiamenti per il pronto soccorso. Ricco anche il programma di eventi di contorno allestito per ProWinter 2015. La stagione è terminata per cui possiamo già fare dei nomi, ci sarà la Fisi che premierà tutti i campioni mondiali di questa stagione, tra l'altro Domenis Parik e tutti gli altri per non menzionare tutti ma ne menzioniamo uno perché sarà presente anche durante la giornata del 9 di aprile allo stand della Dita Lecchi e poi anche sabato mattina ci sarà Tina Maze che premierà con il premio Energia Pura Children's Series anche le giovani leve. Da segnalare che nel pomeriggio di giovedì 9 aprile si terrà anche il convegno della Federazione Italiana Sicurezza sulle piste da sci che tratterà un tema in continua evoluzione. In questi ultimi anni è cambiato moltissimo il modo di lavorare la neve e le piste tant'è che sono spettacolari perché gli gatti delle nevi ultimi sono macchine incredibili. Inoltre è cambiata l'attrezzatura sciistica per cui è aumentata molto la velocità. A questo aggiungiamo un po' di incoscienza e di maleducazione del turista che purtroppo non sempre rispetta le regole. Questo ci porta quindi ad arrivare al punto che gli incidenti non sono più quelli di una volta che erano dettati dalla rottura della caviglia tibia perone perché lo scarpone eccetera. Adesso sono traumi e li abbiamo visti in questi ultimi anni anche importanti con anche con decessi conseguenti. Pertanto l'importanza è quella di segnalare molto bene gli incroci, gli attraversamenti, tutte quelle zone in cui lo sciatore che sta arrivando forse un po' troppo veloce dovrebbe invece A moderare la velocità, B dare le precedenze in maniera adeguata e non ultimo avere rispetto di chiunque sia presente in pista.